Grave incidente nel comune di Monselice, nel Padovano. Nella primissima mattinata di giovedì 15 dicembre, poco prima delle 6, un incidente stradale tra un furgone e due autovetture. Tre feriti in seguito al violento scontro. I pompieri, arrivati dal distaccamento di Este, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto un giovane, rimasto incastrato all'interno di un'auto. Tutti e tre i feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferiti in ospedale. A causa dello sversamento di gasolio contenuto in un tank all'interno del furgone, è stato interessato anche il personale dell'ARPAV. Sul posto, anche i carabinieri e la polizia locale, che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di messa in sicurezza della zona coinvolta dall'incidente sono terminate intorno alle 9 della mattina.